l'alzheimer porta via il passato cancella gli affetti il presente diventa già un passato che non ritorna più la propria identità piano piano se ne va l'amore dei propri cari nulla un os con delle linee guida può provare a gestire al meglio il paziente rispettando le sue esigenze e dei familiari